C'è da dire subito che i comunisti in questo momento sono gli unici che hanno portato nelle piazze, nei luoghi di lavoro, laddove è possibile parlare di queste cose, rispetto a tanti altri partiti che invece in questo momento stanno ancora riflettendo sui fatti di Tiena Men. Con questo voglio dire che siamo stati i primi a condannare fermamente chi ha ordinato quella strage e a esprimere solidarietà agli studenti che poi molti sono periti in quella grande piazza di Pechino. Certamente bisogna dire che su queste questioni si è aperto come ingiustamente dicevi tu una strumentalizzazione politica di bassa lega al punto che anche un gruppo di intellettuali, di filosofi, di cittadini liberi di questo paese indignati hanno detto che contro questo tipo di speculazione politica voteranno per la prima volta partito comunista. Quando dicevo che siamo stati coloro che hanno condannato per primi e forse siamo ancora gli unici ad aver condannato quei fatti, mi riferisco soprattutto ad altri governanti come il ministro Andreotti che ha detto appunto che voleva riflettere prima di criticare il governo cinese. Ma potrei ricordare ancora per un attimo come qualche anno fa Craxi, allora presidente del Consiglio, partì con tanto di giumbo con parenti, familiari, amici, imprenditori proprio per andare in quel paese esaltando le quattro modernizzazioni di Deng Xiaoping dicendo appunto un gran bene di quel governo. Oggi improvvisamente di fronte a questi fatti tutto scompare, la colpa è di un comunismo dilagante che non è garanzia di libertà e di democrazia. Bene, noi diciamo subito che la nostra origine è un'origine fatta di democrazia, di libertà, è l'origine di grandi uomini come Gramsci che hanno sofferto appunto per poter sancire un esempio di vita diversa da quella che ci propina una società capitalista, per poter portare avanti un ideale di socialismo liberale basato sui grandi ideali di democrazia e di libertà. Ebbene, noi abbiamo questa origine, veniamo da lontano come si diceva e andremo lontano nella costruzione di una società effettivamente libera e democratica. Per questo ci sentiamo di essere solidari con quegli studenti che in quella società hanno criticato l'introduzione di alimenti di capitalismo senza andare a cambiare poi nei fatti la società a livello democratico, a livello partecipativo e democratico. Ecco perché noi ci sentiremo sempre solidari con quegli studenti che avevano le stesse bandiere del nostro partito, che erano quelle della pace, del progresso, della libertà, della democrazia. Sono queste le nostre bandiere, quelle del Partito Comunista Italiano e non quelle che vogliono affibbiarci in maniera speculativa e demagogica oggi proprio i democristiani e i socialisti in particolar modo, in questa triste vicenda delle elezioni del 18 giugno, perché di fronte a una scadenza così importante come quella dell'Europa si parla di tutto, meno che dell'Europa.